Una settimana dedicata alla sicurezza in tutte le sue sfaccettature. Ha debuttato a Milano la prima Safety Week edizione 2022. Dopo l'apertura di martedì 26 aprile a Palazzo Marino, nella giornata di mercoledì è stato Palazzo Esimbardi, sede della città metropolitana di Milano, il teatro della seconda giornata della settimana dedicata alla sicurezza. È un onore oggi ospitare in città metropolitana la seconda giornata della settimana della sicurezza, con delineazione nei grandi temi di ampio respiro che sono stati programmati in questa settimana, ma con la concentrazione oggi qua in Palazzo Esimbardi di due temi che ci sono particolarmente cari, da una parte l'inclusione e da un'altra parte la sicurezza, anche in relazione alle grandi sfide che stiamo affrontando, quelle del PNRR o quelle delle Olimpiadi Milano-Cortina che stiamo preparando. Quindi un momento di riflessione, di confronto importante, con una declinazione della sicurezza a 360 gradi che ci permette di rimettere al centro il ruolo metropolitano della nostra istituzione in un confronto serrato con istituzioni e privati per vedere anche quali sono le pratiche da cui prendere esempio e poter rinanciare in un momento difficile come questo gli obiettivi e le sfide future. Ieri ha debuttato a Palazzo Marino la Safety Week 2022 e oggi i lavori riprendono a Palazzo Esimbardi, sede della città metropolitana. Avremo modo di confrontarci sul tema della sicurezza sotto svariati aspetti e in particolare oggi affronteremo il tema della città inclusiva. Come possono essere inclusive le nostre città? Quali sono le azioni che l'amministrazione ma anche il privato possono e devono mettere a terra perché le città possano essere accoglienti, inclusive appunto e perché le persone, quindi i cittadini e le cittadine, possano sentirsi a casa propria in qualunque luogo. Nel pomeriggio un vero e proprio laboratorio metropolitano per discutere dei temi della sicurezza sul lavoro. Purtroppo, lo sappiamo, ogni giorno leggiamo sui giornali ancora di morti sul lavoro. In particolare ci soffermeremo sulle questioni relative ai cantieri, alla sicurezza sui cantieri, alla prevenzione. È necessario affrontare questo tema con maggiore determinazione sia dal punto di vista dell'istituzione che dal punto di vista del privato. Faremo un focus particolare sui cantieri e un accenno anche alla necessità di realizzare cantieri sicuri anche in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La Safety Week continuerà nelle giornate del 28 aprile e del 30 aprile, questa volta a Pioltello, per una giornata dedicata ai più piccoli. Grazie a tutti.